Compie alla Spezia gli studi medi e frequenta il Liceo Pacinotti. Ma coltivando fin dalla più giovane età l'interesse per le forme di teatro e della recitazione. All'età di 17 anni è ammesso all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma. Riceve una borsa di studio e si diploma nel 1959. Inizia a lavorare al Teatro Stabile di Genova. Gogol, Pirandello, Goldoni. Shakespeare, O'Neill, Moliere sono tra le sue prime principali partecipazioni. Si dedica anche al doppiaggio e alla recitazione cinematografica. Nutrita è la sua filmografia. Il suo film più noto rimane Profondo Rosso. 1975. Ma ha lavorato in ben tre film di Lina Wirtmuller ed è da ricordare anche Il nastro d'argento. Che riceve per la partecipazione alla cena di Ettore Scola. 1998. In campo televisivo lavora disperatamente Giulia. Scoop. Così e se vi pare. Regia di Massimo Castri. Partecipa al seriale L'Ombra della Sera. Di Cinzia T.H. Torrini. Segue il seriale intitolato Il Mastino. Per Rai 2. Dal 2005 fa parte del cast fisso del telefilm di Rai 1 Gente di Mare. E nel 2007 ritorna in Gente di Mare 2. Importante è anche la sua carriera da doppiatore cinematografico che lo ha visto. Fra gli altri, nel 1996 prestare la voce al personaggio di Claude Frollo nel film animato della Disney Il Gobbo. Di Notre Dame. Adattamento del capolavoro di Victor Hugo Notre Dame de Paris. Doppia il sergente maggiore Hartman nel capolavoro di Stanley Kubrick Full Metal Jacket e Dustin Hoffman nel film d'animazione Kung Fu Panda. Nel 2006 ha vinto il premio E.T.I. Gli Olimpici del teatro assegnato da Lety come miglior attore per la sua interpretazione di Willy. L'Oman in morte di un commesso viaggiatore. Per la regia di Marco Sciaccaluga. Regista con cui ha avviato negli ultimi anni una fruttuosa collaborazione artistica. Nel 2008 riceve dal pubblico italiano il premio Gasman come miglior attore per lo spettacolo La Famiglia dell'Antiquario di Carlo Goldoni.